La sezione Avis di Città di Castello ha festeggiato i suoi 60 anni dalla sua fondazione. Nei programmi dell'Avis è sempre stata attenta a non perdere di vista le finalità primarie dell'Associazione. Anche nel biennio 2013-2014 ogni sforzo è stato profuso per ottenere i migliori risultati possibili in termini donativi per continuare a garantire l'autosufficienza agli ospedali del territorio. Il presidente onorario, il commendatore Antonio Gasperini, ha voluto ricordare i dati degli ultimi dieci anni. Nel 2004 i donatori erano 1.264 con 1.961 donazioni. Nel 2008 i donatori 1.357 con 2.221 donazioni. Nell'anno passato, 2013, i donatori sono stati 1.600 con 2.500 donazioni. Il commendatore Gasperini ha voluto ricordare che quando conobbe l'Avis nel 1965 i donatori erano 97 e le donazioni erano 122. Dall'ora ad oggi molta strada è stata percorsa. Ora il presidente è Paolo Celestini, ma sempre con il supporto dietro del commendatore Gasperini. Intanto sono 60 anni ma non li dimostra. È un'Avis anziana come numero di anni, ma è sempre giovane come spirito. Quindi di positivo c'è che la forza dell'Avis viene proprio dai giovani. La scuola in modo particolare per noi rappresenta un vivaio notevole per la ricerca di donatori. Giovani che lo fanno con entusiasmo, c'è una sensibilizzazione abbastanza sentita. Abbiamo l'aiuto delle varie... Naturalmente in questo ci aiuta molto il centro trasfusionale, ci aiuta anche l'amministrazione comunale indicendo varie iniziative alle cui partecipiamo sempre molto volentieri. Il commendatore Gasperini infine ha voluto sottolineare la generosità dei donatori che è stata grande. 256 riconoscimenti che sono stati consegnati durante la giornata del donatore. Un grazie a tutti i premiati. Tra tutti ha voluto ricordare il commendatore Gasperini quelli che hanno raggiunto grandi traguardi. Tre diplomi con distintivo in oro e rubino per 75 donazioni a Carlo Chiasserini, Silvio Montesi e Lucio Passaglia. Cinque diplomi con distintivo in oro e smeraldo per le 100 donazioni a Gilberto Carletti, Giuseppe Calvani, Paolo Gustinelli, Valmiro Martinelli e Enzo Montesi. Un diploma con distintivo in oro con diamante per 120 donazioni ad Anselmo Baldi Alunno.